S.O.S. T.C.S. da Mussomeli, cos'è che non va? Non va che io ho avuto un caso, un problema il giorno 6 di maggio, dato che mi siamo in famiglia e si è causato un incidente di percorso in bicicletta di cui mi sono trovato un po' da parte dei medici dell'ospedale Longo di Mussomeli, mi sono trovato sempre bene e continuerò a trovarmi sempre bene però come mi è stato riferito non c'è la possibilità di avere un anestesista a livello pediatrico anche perché ho dovuto spostarmi conoscendo medici dell'ospedale Cervello di Palermo il mio appello è di avere un anestesista a livello pediatrico in caso di urgenza, senza bisogno di chiamare il 118, l'elisoccorso spostare le ambulanze, le preoccupazioni di altre famiglie, che è veramente una cosa se abbiamo questa necessità io lancio questo appello, la mia, di dire facciamo un qualcosa per migliorare le nostre situazioni Infine, penso che anche a livello politico e regionale, se ci mettessimo ognuno di noi la mano sul cuore mi siamo sempre anche sperando di no, ma che potrebbe capitare anche di avere una camera a livello di rianimazione perché le capacità a livello dell'Asle in Sicilia, come abbiamo ottimi centri come Palermo, Catania, Messina e altri centri che non sto ad allencarvi, comunque penso che dovremmo avere un ottimo ospicio di avere anche questa possibilità per ora facciamo un passo alla volta, è come quando si sale su una scala che si inizia dal primo gradino e si va a finire fino in alto